Ben ritrovati amici rossoneri, amiche e amici rossoneri di Milanello, un nostro canale YouTube sul Milan, sui giocatori del Milan e buon sabato. Si fa per dire ovviamente, ma bisogna reagire. Vi confesso che stanotte ho sognato di fare una videochiamata con Zlatan Ibrahimović, però poi non mi ricordo come sia finita. E quindi pensiamo a Milan anche di notte. Mi raccomando iscrivetevi qui sulla banderina rossonera per non perdere nulla sul mondo del Milan e restate sempre con noi. Oggi è il giorno dopo, siamo comunque a poche ore dopo, visto che qualcosa di ieri sera l'infortunio di Zlatan Ibrahimović, dobbiamo fare qualche riflessione un po' più a freddo. Intanto il problema, ripetiamo, è al polpaccio e non è un problema legato all'infortunio dal quale ormai era uscito. Senza questo tipo di problema, il polpaccio avrebbe giocato domani, sarebbe stato convocato oggi, sarebbe allenato oggi di nuovo nella rifinitura con il gruppo. E' un problema che si ha però quando si è particolarmente sollecitati, quando l'attività fisica è continua. E quindi diciamo che l'età, 39 anni, purtroppo deve essere un elemento da considerare anche per lui. C'è, immaginiamo la classica torta, nelle statistiche, nei diagrammi, come viene divisa per le responsabilità. L'infortunio di Rebic è esclusivamente 100% della torta sfortuna, ce lo ricordiamo, lo stesso di Gabbia. Infortuni traumatici sono sfortuna, non puoi farci nulla. Sull'infortunio di Ibra, purtroppo nella situazione generale e nelle conseguenze, nelle ripercursioni che avrà sulla squadra, la torta va divisa con componente sfortuna, chiaramente, ma c'è una componente anche legata a responsabilità della società che doveva comunque immaginare che a qual'età, purtroppo, l'infortunio è dietro l'angolo. A oggi Ibra ha saltato una partita su due. La proiezione, la prospettiva è che ne salterà diverse ancora, quindi questa percentuale peggiorerà. Devo dire che, per quanto riguarda le tempistiche, c'è chi ipotizza a metà gennaio, nella migliore delle ipotesi, chi fine gennaio, purtroppo, sicuramente, salta ovviamente Sassuolo Lazio, salta anche il Benevento, ma soprattutto la Juventus. Sfida che ci aspetterà nel giorno del Befana, il 6 gennaio. L'abbiamo detto spesso, ci vuole il vice Ibra, non si può ripartire da un attacco con soltanto questo tipo di numero 9, che ha 39 anni, seppur fortissimo. E' stato fatto un valore anche tecnico. Non so quanto dalla dirigenza, quanto magari di più agli stesso, a identificare in Rebic e Leao dei giocatori che potevano fare quel tipo di ruolo. Rebic non lo può fare, l'abbiamo capito. Leao con lo Spezia l'ha fatto bene, però in altre situazioni non è stato all'altezza. Ora c'è tempo e modo comunque di intervenire, sperando che in queste ultime due partite dell'anno e nelle prime dell'anno prossimo non si perdano punti, troppi punti. Io poi voglio pensare sempre positivo e spero che comunque ci siano reazioni d'orgoglio da parte di tutti i giocatori che diano davvero qualcosa in più nelle situazioni di difficoltà, come hanno fatto in passato. Vi dicevo comunque c'è il modo di intervenire, perché c'è il mercato di gennaio. Ma un concetto deve essere chiaro. Non bisogna andare a prendere un attaccante, perché il mine l'attaccante lo prenderà sicuramente, non bisogna andare a prenderlo nei saldi di fine gennaio, ma bisogna prenderlo nelle vetrine di fine dicembre, per avere a disposizione già all'inizio di gennaio. Secondo me bisogna fare subito uno sforzo. È chiaro che oggi i telefoni di Maldini e Massara dovranno essere bollenti, anche di Moncada stesso, tra di loro, ma anche in uscita e anche in entrata con i procuratori, per capire che cosa può succedere. Però, se fossi io la dirigenza, mi muoverai subito. Ci sono ancora una decina di giorni abbondanti entro la fine dell'anno. Bisogna prendere in questi dieci giorni l'attaccante. Uno già pronto all'uso, per intenderci Mandzukic, se lo prendi e lo tiri a lucido, passano altri due mesi, un mese e mezzo, lui è fermo da oltre un anno. Quindi serve uno in attività agonistica, che sta bene, e che il 3 gennaio, quando giochiamo con il Benevento, se non lo fai partire dall'inizio, te lo porti in panchina e lo fai entrare nel secondo tempo. E il 6 contro la Juventus parte dall'inizio. Questo deve essere, secondo me, fuori da ogni considerazione diversa, nel senso che, se poi tu aspetti metà gennaio, fine gennaio, rischi di aver perso punti decisivi nel frattempo. Servo numero 9, va preso subito in questi giorni di dicembre. Credo, mi auguro, che la società sia del mio stesso avviso. Ovviamente vogliamo fare anche noi un focus su quali sono le idee, quali sono le opportunità, visto che comunque il discorso vice-ibra balena nella nostra testa, ma ci risulta anche nella testa dei dirigenti, ormai da qualche tempo, da qualche settimana. Quindi, rimanete sintonizzati con noi. Vi ricordo sempre di iscrivervi qui, di lasciare il like, ma voglio coinvolgere anche la voce del diavolo, Leonardo Martinelli, per capire anche la sua reazione caldo e che cosa si può fare, che cosa si poteva fare che non è stato fatto. Leonardo, a te. Eccoci qua, amici della voce del diavolo e del canale Mila Nelò. E' successo quello che non volevamo succedesse, ma è successo, era prevedibile, era possibile, era addirittura probabile. Ibra ha sentito un dolore al polpaccio, l'hanno chiamato soleo, ma non è altro che la parte alta del polpaccio, la parte dietro il ginocchio, la parte che collega appunto il muscolo del polpaccio al ginocchio, nella parte posteriore, ed è un infortunio brutto, c'è un versamento, quel muscolo ha tanto sangue dentro, c'è un versamento, è un infortunio vero, un infortunio muscolare, tra l'altro un infortunio che non avviene nemmeno per aver fatto uno scatto particolare o dopo una partita stressante, è un infortunio. Parlato con un primario ortopedico di Milano, dell'ospedale Sacco, credo, si parla di un rientro a fine gennaio, quindi un mese e mezzo circa di prognosi, 40 giorni. E' un guaio grosso, è un guaio grosso, non è colpa di nessuno, non si può dire che sia colpa dei medici del Milan che hanno cercato di affrettare il rientro dal precedente infortunio, non credo sia quello, penso che i medici del Milan abbiano avuto il massimo della prudenza, penso che la società abbia tenuto tranquillo Ibra che già scalpitava da tempo, per almeno una settimana, per poter rientrare, meno male che non l'ha fatto, e comunque ci plantiamo Ibra per partite importantissime, partite col Sassuolo, partite con Lazio, partite con la Juventus, insomma rischiamo seriamente che quando rientri Ibra saremo ben lontani, ben lontani da quel primo posto, oggi sono negativo, però io lo devo dire, mi sta qua, lo devo dire. Devo dire che io l'avevo detto, io l'avevo detto, l'avevo detto quando è arrivato Ibra, l'avevo detto al termine della campagna acquisti, l'ho detto nei video recenti, non si può pensare di giocare con un centravanti di 39 anni, neanche se questo centravanti è un fenomeno che si chiama Ibra Inolci, non si può, oppure si può, ma se sei una squadra da metà classifica, se sei una squadra che ha come obiettivo diretto non dico vincere il campionato, ma arrivare nelle prime quattro, non si può, non si può nella maniera più assoluta. Un centravanti dovevi averlo, la società è convinta, forse ancora oggi è convinta, che Leao e Rebic possano validamente sostituire Ibra Inolci in mezzo, non è vero. Ditemi quanti gol ha fatto Rebic quest'anno, comunque Rebic si è infortunato, ma lui rende meglio quando gioca a sua sinistra, Leao non sappiamo ancora se è un giocatore vero o no, ma sicuramente non è il centravanti oggi su cui contare in mezzo all'attacco, Simone Colombo, sinceramente, per amor di patria, non ne parlo neanche, perché non voglio certo buttare la croce addosso a un bravo ragazzo, serviva un vice Ibra, serviva come minimo un Pavoletti, come minimo, come minimo, in realtà, secondo me, la mia teoria la conoscete, andava preso un centravanti tipo Belotti, e da tempo la sua stagione a Torino è finita, andava preso un centravanti come Belotti, e avremmo avuto una squadra senza Ibra dai primi quattro posti, avendo anche un centrocampista e un difensore centrale non bravissimi, ma numericamente. e con Ibra presente avremmo anche potuto fare qualcosa di più del quarto posto. E invece, così non è stato, vediamo a gennaio cosa faremo, non sarebbe troppo tardi intervenire a gennaio saremmo ancora in tempo per i nostri obiettivi, ma la società si deve dare una mossa, si deve dare una svegliata, deve capire che una squadra di calcio come il Milan non è solamente budget ed istintivo. Un saluto a tutti. Che cosa ne pensate? Proviamo comunque a essere tutti costruttivi e a stringere i denti seppur il momento sia parecchio difficile, ma nulla è perso. Quindi ragazzi, rimaniamo uniti e cerchiamo insieme una soluzione anche noi, ovviamente sperando che la società prenda la decisione migliore. Sul mercato spesso lo abbiamo fatto. Per quanto mi riguarda bisogna magari prendere un chiare dell'attacco, uno che zitto zitto arriva e fa la differenza, o meglio ancora uno, un giovane che può diventare un campione. Insomma, un numero 9 importante. Iscrivetevi qui e lasciate il like se comunque volete provare a essere tutto sommato nonostante tutto ottimisti. Ciao!